Ordinarie, guardate, Papa Francesco che visita a sorpresa una casa di riposo per anziani, una casa di cura per persone che vivono allo stato vegetativo. È successo ieri pomeriggio nella periferia di Roma, a Torre Spaccata, suscitando non poca emozione da parte delle persone che ha incontrato Papa Francesco. Vi dicevo, una visita assolutamente a sorpresa, fuori dal programma ufficiale, ma che rientra tuttavia in quelle opere di misericordia che Papa Francesco aveva annunciato proprio nella presentazione del Giubileo della Misericordia. Guardate questi gesti di grande affetto, di grande tenerezza umana che suscitano una commozione incredibile, come racconta proprio questa immagine. Papa Francesco compirà questi gesti ogni, di solito, di venerdì e ascoltate questo dialogo, guardate che meraviglioso. E ancora, queste le immagini relative alla visita nella casa di cura per le persone allo stato vegetativo, come vi dicevo. Quindi da una parte l'attenzione è forte nei confronti degli anziani, dei noni, di quelle persone spesso dimenticate dalla società, e dall'altra l'attenzione a tutte le forme di vita in qualsiasi stato, e se siano proprio nell'attenzione, come vi dicevo, della dignità delle persone umane. Iniziamo così questa puntata speciale. Desso immagino il Giubileo, buon pomeriggio.